E l'altra è una donna straordinaria, simbolo di eleganza e di bellezza, che ha segnato decenni di storia del cinema italiano, che era Virna Lisi. E una delle cose belle è che quando sono diventato presidente del Consiglio c'era stata una battuta legata a vicende politiche, lei mi aveva chiamato e scritto un biglietto perché è una piccola cosa, ma mi piace pensare che l'Italia sia anche questo.